Quanta Grecia, intravedo nel suo discorso odierno, Presidente Draghi, austerità e ingiustizia sociale, questo è il suo credo. E che dire della sua subalternità ad un atlantismo che non può essere minimamente messo in discussione, altrimenti si passa per cattivi. Io invece le dico, ogni arma in più che manderete in Ucraina è un giorno in meno investito nella ricerca della pace. Siamo qui solo perché gli italiani lo hanno chiesto, ha detto. Se ci crede davvero, provi l'ebrezza delle elezioni, ci metta la faccia almeno una volta nella sua vita. Se vuole essere un leader, lo dimostri sul campo. Il tempo dei nominati è finito, è ora di tornare al voto.